A Sulmona la Befana sembra arrivata in anticipo. Ironica protesta del movimento sovranità a ridosso delle festività natalizie. Sacchi di carbone riportanti le scritte punto nascite, sicurezza, immigrazione, menze scolastiche, emergenza abitativa sono stati consegnati presso il municipio all'indirizzo del sindaco Ranalli e la sua giunta. Uno stricione è stato esposto lungo largo Faraglia per l'amministrazione del fare solo carbone a Natale recita lo slogan. Con questa azione spiega Alberto Di Giandomenico responsabile sul monese di sovranità abbiamo voluto porre l'attenzione sul mancato intervento dell'amministrazione rispetto alle emergenze che interessano la nostra città. Presentatasi in occasione della campagna elettorale come l'amministrazione del fare l'amministrazione Ranalli tutta presa da interminabili liti interne alla propria maggioranza ha brillato per immobilismo e per assenza rispetto ai grandi problemi che affliggono la nostra città come il deterioramento della sicurezza, la fallimentare gestione degli impianti sportivi, la mancanta attenzione alle famiglie che realmente necessitano di una casa popolare, l'interruzione del servizio mensa per le scuole compresi disagi e aumento dei buoni pasto per le famiglie fino alla battaglia per la salvezza del punto nascere dell'ospedale che ha coinvolto tutta la cittadinanza ma che ha visto latitare sindaco e assessori. Io voglio ricordare una cosa all'amministrazione Ranalli, voi non siete l'amministrazione del fare, voi siete l'amministrazione dell'immobilismo, la città non vi vuole, siete un'amministrazione fallimentare. A fronte dei tali risultati, in calza e referente di sovranità, la consegna di carbone per Natale ci sembra d'obbligo nella speranza che presto una nuova amministrazione possa provvedere a cambiare le cose e che i cittadini di Sulmona possano festeggiare il prossimo Natale con uno spirito più lieve.